Il Vincenzo Florio di Virgi Il Vincenzo Florio di Virgi Il Vincenzo Florio di Virgi Ieri nei locali di Confindustria Trapani si è tenuta una riunione sull'aeroporto di Virgi al centro del confronto la vicenda del finanziamento dell'azione di co-marketing per mantenere i voli della Ryanair All'incontro di ieri pomeriggio hanno preso parte i presidenti del distretto turistico Confindustria e Camera di Commercio di Trapani rispettivamente Peppe Pagoto, Gregory Buongiorno e Pino Pace oltre ai sindaci di Trapani, Marsala, Erice, Salemi e Buseto Palizzolo diversi assessori, la senatrice Pamela Orru, i deputati regionali Mimmo Fazio e Mimmo Turano Il quadro non è dei migliori visto che sul futuro dello scalo incommono le scelte di Ryanair legate, come noto, a due accordi di co-marketing entrambi a rischio Il primo per un importo di 3 milioni di euro con AERGEST che il presidente della società di gestione, Franco Giudice ha intenzionato a non rinnovare a causa delle difficoltà finanziarie Il secondo per 2 milioni e 100 mila euro grave invece sulla Camera di Commercio di Trapani e sui comuni che sono in evidente affanno con forti ritardi nei pagamenti C'è poi il venir meno del ruolo di cabina di regia dell'ente camerale trapanese nell'ambito della riforma del sistema camerale che porterà l'accorpamento con altre Camere di Commercio siciliane Tra gli argomenti che tengono banco anche la situazione finanziaria di AERGEST Oltre a trovare e reperire insomma il co-marketing che significano 6 milioni di euro all'anno che oggi venivano più o meno garantiti 3 milioni e rotti dalla società di gestione 2 milioni e rotti più IVA dai comuni dovranno essere recuperati da un unico diciamo interlocutore forse dovranno essere i comuni, forse la Regione ancora bisognerà capirlo anche se i tempi e la miccia si va sempre più accorciando e poi c'è anche l'altra questione che riguarda l'aumento del capire sociale necessario di 16 milioni di euro che dovrà essere garantito dalla Regione siciliana oltre che dai soci privati per continuare a fare gli investimenti previsti all'interno dell'aeroporto quindi siamo su due tavoli, le somme sono differenti la verità è che gli attori sono sempre gli stessi enti locali, regioni e comunque vada anche se indirettamente coinvolti tutti gli operatori commerciali ed economici di questa nostra provincia che hanno investito tanto pensando che questo aeroporto potesse continuare a portare passeggeri, quindi portare turismo e creare condizioni di sviluppo nel nostro territorio Nel corso della riunione è stata prospettata l'ipotesi di coinvolgere nel co-marketing l'ex provincia regionale di Trapani, oggi libero consorzio dei comuni in modo da prendere tempo in attesa di soluzioni ed una strategia di lungo periodo per ora tutta da definire, intanto però incomodano le scadenze dei prossimi mesi Quanto ci è stato rappresentato dal Presidente dell'Aergest è veramente desolante credo che basta per tutti immaginare di vedere sicuramente a partire da gennaio il venir meno del nostro aeroporto, del traffico al nostro aeroporto e soprattutto a partire da marzo le dismissioni da parte dell'Aergest laddove entro questo termine non si trovino delle soluzioni che vedono sicuramente un atteggiamento di Rainer completamente diverso da quello che sicuramente avrà nel momento in cui nessuno andrà a stipulare il nuovo contratto che va a scadere, dobbiamo ricordarcelo, al 31 marzo del 2017 Bene, a oggi nessuno ha intrapreso un percorso che vede sicuramente come interlocutore con Rainer nessuno ha intrapreso un percorso per verificare la disponibilità di carattere economico anche con l'immaginare il coinvolgimento dello stesso territorio, delle imprese, delle attività che sono presenti nel territorio e a mio avviso che sono quelli che ne ricevono un beneficio e sono quelli che per primo sarebbero penalizzati e quelli che avrebbero per primi interesse sicuramente a contribuire per evitare tutto quello che effettivamente mi spiace in maniera del tutto inesorabile e soprattutto con la complicità o con l'omissione di tanti si sta compiendo Riunione ieri sera nei locali della sede del Movimento Erice che vogliamo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali Nessuno lo dice apertamente ma nella coalizione che sostiene il sindaco Tranchida c'è Maretta Le elezioni amministrative del 2017 sono dietro l'angolo ma ancora non c'è unità di intenti su cosa fare e quale candidato a sindaco sostenere Il primo cittadino ha sgomberato il campo da ogni dubbio annunciando il suo appoggio a Daniela Toscana ma in questi giorni ha preso piede l'ipotesi di una candidatura del presidente del Consiglio Comunale di Erice Nini Romano e tra chi sostiene la necessità di presentare un proprio candidato come Erice che vogliamo c'è l'assessore Gianni Mauro Il portavoce del Movimento non ha dubbi riguardo la necessità di partecipare direttamente alla competizione elettorale per le amministrative 2016 prospettando anche l'ipotesi di primaria e di coalizione da fare dopo quelle del PD dove in corsa ci sono Franco Todaro e Daniela Toscano quest'ultima candidata di bandiera di Tranchida che nel corso della riunione di ieri ha illustrato le ragioni per cui ha deciso di puntare sul suo vice sindaco con una candidatura all'insegna della continuità amministrativa con il suo esecutivo ma restando sempre nella sua giunta l'assessore Gianni Mauro è invece per lanciare una candidatura tutta interna dei rice che vogliamo ed il nome che si fa è quello di Ninni Romano che nei mesi scorsi aveva invece fatto sapere di voler tentare la carta di una candidatura al Consiglio Comunale di Trapani insomma Tranchida e Mauro hanno opinioni divergenti riguardo la strategia da seguire tra i corridoi della politica a prendere per vero le indiscrezioni si parla di spaccatura tutta interna al Movimento Tranchida dal canto suo liquida invece il tutto come un normale confronto interno che continuerà in una seconda riunione in programma per giovedì naturalmente in campo ci sono diverse variabili molte delle quali si intrecciano con il confronto politico per le elezioni nel vicino comune di Trapani e che rimandano agli equilibri interni al PD anche da questo versante alle prese con le primarie e nello scacchiere delle strategie si inserisce come ovvio la componente dell'onorevole Ruggirello a cui fa riferimento Franco Todaro i due tavoli, quello tra Panese e quello vicino sono tra di loro strettamente legati e alla fine le scelte fatte su un versante finiranno con l'avere delle ripercussioni sull'altro la partita è bella che è iniziata In vista delle prossime elezioni amministrative del 2017 l'ex calciatore Silvio Iuzia ha deciso di candidarsi per il rinnovo del Consiglio Comunale nelle liste del Movimento Civico Nati Liberi coordinato dal Consigliere Comunale Cettina Montalto che si appresta a candidarsi a Sindaco della Vetta Riconosco delle grandi qualità in Cettina Montalto ed è una persona che ha a cuore le esigenze della popolazione ricina ha fatto sapere Iuzia spiegando i motivi che l'hanno spinto a voler aderire al Movimento Presentata a Palermo la quinta edizione di Blue Zealand l'Expo del Distretto Agri Alimentari del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente organizzato dal Distretto della Pesca che si terrà a Mazzara del Vallo dal 5 al 9 ottobre Il programma della manifestazione è stato illustrato ieri nel corso della conferenza stampa a cui hanno preso parte il Presidente del Distretto della Pesca Giovanni Tumbiolo l'Assessore regionale Antonello Crecolici e i dirigenti regionali Maria Cristina Stimolo e Dario Cartabellotta Blue Zealand si aprirà domani a Mazzara del Vallo alle 18.30 nell'Aula Consigliare 31 marzo 1946 con il convegno Il Dialogo tra i Popoli il Progresso e la Blue Economy dedicato all'integrazione fra i popoli nel segno della Blue Economy La manifestazione proseguirà dal 6 al 9 ottobre con l'Expo che si svolgerà nel Centro Storico e in particolare nella Casba il quartiere sito nel cuore della città Dedalo di Vicoli di origine araba dove convivono pacificamente diverse culture, religioni e etnia Intanto cominciamo dalla novità più significativa che è questo concorso internazionale 50 maestri pasticceri e 50 panificatori di tutti i paesi del Mediterraneo concorreranno a costruire la cubaida più lunga del mondo quindi un Guinness dei primati e il pane cunzato più lungo del mondo La cubaida e il pane cunzato rappresentano i prodotti e la cultura mediterranea ma soprattutto mettono al centro la Sicilia La regione siciliana sta facendo un enorme sforzo di valorizzazione delle produzioni agricole, agroalimentari e anche del settore della pesca e nel pane cunzato vi ricordo che ci sono le acciughe ci sono le sardine non c'è solo il buon olio, le buone farine e quindi queste miscele, questi grani antichi questa riscoperta dei grani dei paesi del bacino del Mediterraneo La Sicilia è una culla importantissima di valorizzazione quindi sta al centro di questo hub mediterraneo è fuori di dubbio che l'incontro di tutti questi paesi del Mediterraneo dell'Africa e del Medio Oriente rappresentano non soltanto un momento di valorizzazione del cibo della gastronomia e quest'anno Blue Sealand è dedicato alla lotta allo spreco alimentare All'interno del centro storico mazzarese saranno presenti stand dedicati ai prodotti agroalimentari dei territori, dei paesi partecipanti e delle aziende partner in tutto saranno presenti circa 300 aziende appartenenti al cluster dei distretti agroalimentari un percorso culturale che punta a coinvolgere i visitatori in una esperienza unica all'insegna delle diverse culture e dei sapori del mare e della terra che caratterizzano il Mediterraneo Intanto è una manifestazione che vede la Sicilia capitale del Mediterraneo ci saranno oltre 50 delegazioni di paesi del bacino del Mediterraneo e quindi è per davvero una grande manifestazione di un mondo globale Mazzara del Vallo è la capitale di una integrazione, di una località, di un luogo che storicamente è un luogo di integrazione e credo che potrà essere un'occasione per le nostre imprese di internazionalizzarsi di avere fattori di sviluppo e di esportazione dei propri prodotti In questi giorni al cimitero di Trapani sono in corso le stimolazioni delle salme per scadenza ventennale delle concessioni la cosa ovviamente non è passata inosservata tra i cittadini che hanno lamentato la presenza dei sacchi con dentro le bare tra i viali del Camposanto Maurizio Camilleri questa mattina ha formalizzato una denuncia querela in quest'ora presso gli uffici della Digos sul cimitero di Trapani dove ieri l'esponente dei 5 Stelle ha notato la presenza dei grossi sacchi bianchi e dei resti di vecchie bare sparsi in diverse zone della parte vecchia del Camposanto arie che non erano né circoscritte né tanto meno inibite al transito dei visitatori Camilleri ha fatto sapere che dei sacchi provenivano cattivi odori chiedendosi da cittadino trapanese se questa sia una cosa dignitosa e igienica ma dal comune di Trapani l'assessore Giuseppe Licata ha confermato come si tratti della stimolazione delle salme per la scadenza ventennale delle concessioni assicurando come tutto si sia svolto seguendo la procedura prevista dalla legge compresi i sacchi bianchi che sono stati posizionati sui viali in attesa che passassero i mezzi per lo smaltimento sempre come indicato dalle normative delle bare dopo essere state svuotate dai resti dei defunti posizionate in appositi contenitori più piccoli l'assessore Licata ha poi fatto sapere come l'avvio delle operazioni che si sono svolte in questi giorni siano state comunicate sull'albo pretorio online dal sito del comune di Trapani altre due tartarughe marine del centro di primo soccorso dell'area marina protetta isole Egadi sono state liberate in mare negli ultimi giorni hanno ritrovato la libertà in mare altri due esemplari di caretta caretta dopo aver ricevuto le cure mediche del personale del centro di primo soccorso per tartarughe marine dell'area marina protetta isole Egadi l'ultima in ordine di tempo è Paride che dopo un mese di degenza presso il centro dove era arrivato a causa di problemi di galleggiamento è ritornato a nuotare libero nelle acque della secca del toro di Favignana nel corso della degenza Paride ha eliminato una quantità di plastica sicuramente ingurgitata scambiandola per proprie prede prima di lui era stata liberata nelle acque di Marettimo Nausica che era giunta al centro a metà settembre perché mostrava difficoltà nel nuoto anche Nausica nel corso della degenza ha evacuato una grande quantità di plastica oltre diversi frammenti di rocce probabilmente inghiottiti per sbaglio il momento della liberazione dopo il periodo di degenza e assistenza delle tartarughe presso il centro è di grande impatto emotivo dichiara il sindaco del comune di Favignana Giuseppe Pagoto assistere al recupero del buono stato di salute di animali così vulnerabili è la migliore gratificazione per il gruppo di veterinari e biologi che gestiscono il centro il centro realizzato con il contributo del Ministero dell'Ambiente del Fondo Italiano per la Biodiversità di Federparchi al momento è attivo come primo soccorso il rafforzamento di tale struttura consentirà di intervenire sugli animali in modo tempestivo e completo migliorando le possibilità di sopravvivenza definito il programma delle escursioni autunnali del presidio CAI di Erice il primo appuntamento sarà domenica 16 ottobre con uno trekking nella montagna di Erice lungo il sentiero MS 102 di Porta Castellammare Trecchiese si continuerà domenica 30 ottobre nella riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza per continuare il 13 novembre lungo l'itinerario costiero della riserva naturale orientata di Monte Cofano per domenica 27 novembre i soci del presidio di Erice e del club alpino italiano saranno invece nel parco delle Madonie l'ultima escursione del 2016 sarà a Bosco Scorace con un tour fatto assieme al gruppo micologico Tonino Pocorroba il programma è stato definito dall'assemblea dei soci che si è tenuta ad Erice nella sede di via Polonis presenti anche il sindaco di Erice Giacomo Tranchide e l'assessore Gianni Mauro nel corso dell'incontro che si è aperto con l'intervento della referente del presidio Vincenzo Fazio si è anche parlato del progetto Adotta un sentiero nell'ambito di un piano di monitoraggio e valorizzazione dei percorsi che si snodano lungo la montagna di Erice a partire da quello delle mura ciclopiche del borgo medievale che nelle prossime settimane dovrebbe anche essere mappato dal CAI attraverso la sistemazione dell'apposita segnaletica tra gli argomenti al centro del confronto c'è stata anche l'organizzazione di un festival della montagna una a tre giorni di appuntamenti tra natura, cultura, enogastronomia e musica grande partecipazione al Bir Marsala festival della birra artigianale dello street food siciliano che si è tenuto questo fine settimana sono tantissime le persone che nel fine settimana hanno presenziato al Bir Marsala il festival della birra artigianale dello street food siciliano organizzato dalla Proloco e da AR Media SRL un successo che non ci aspettavamo commenta il presidente della Proloco Mario Ottoveggio tanto che per la grande affluenza in molti hanno dovuto fare la fila fuori hanno partecipato a questa iniziativa tantissimi visitatori provenienti da diverse zone della Sicilia e da diverse regioni d'Italia molti gestori delle strutture di Marsala commenta Fabio Alba della AR Media SRL ci hanno ringraziato per l'affluenza del pubblico che hanno apprezzato le eccellenze della birra artigianale e dello street food siciliano tra i tanti artisti di strada c'è stata la partecipazione di un gruppo di giovani della comunità tunisina di Mazzara del Vallo che si è esibita nella breakdance tra gli occhi curiosi dei partecipanti e anche il Beer Volley, aggiunge Mario Ottoveggio è stato un momento speciale di socialità un bilancio positivo è quello dell'organizzazione dell'evento che si promette di perfezionare la manifestazione e hanno voluto ringraziare gli organizzatori del Beer Volley gli artisti di strada e tutti coloro che con le loro esibizioni hanno fatto divertire il pubblico presente alla manifestazione Inviata Lotti Fontanelle a Trapani o consultate il sito www.trapanicalcio.it Oggi bastano 29 euro al mese per entrare nel mondo Team Smart Internet veloce dentro e fuori casa chiamate da fisso e da mobile in più Team Vision sempre incluso e il primo mese è gratis Scegli On Off e viaggia con la fibra ultraveloce di Team On Off, leader nella telefonia Adesso lo sport, il calcio alle 15 il Trapani riprenderà gli allenamenti in vista della partita di domenica contro il Latina Torniamo però alla sconfitta di sabato con il Cittadella ed ascoltiamo Luca Nizzetto Penso che oggi abbiamo fatto la partita è il primo tempo, siamo entrati in campo come dovevamo come volevamo dando prova che non eravamo la squadra di Salerno però manca qualcosa perché alla fine il risultato 2 a 0 è inutile che dici è il primo tiro, fangol, tu prendi la traversa probabilmente l'anno scorso una partita così la vincivi 3 a 0 e tutti a casa e adesso non è così e non è così perché manca qualcosa dopo una partita così è dura anche è dura anche da avere una risposta a questo c'è poco da parlare perché abbiamo parlato anche tanto, troppo e tutti e quindi cerchiamo di parare meno di andare in campo con l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi che secondo me è l'atteggiamento giusto con la voglia di vincere che avevamo oggi perché penso che avevamo più voglia di vincere di loro però manca qualcosa e questo qualcosa dobbiamo trovarlo attraverso il lavoro rimanendo comunque lucidi non perdendo la testa tutti noi, l'ambiente è anche fuori è chiaro che perdi e quindi giustamente c'è malumore però noi all'interno dobbiamo stare concentrati sull'obiettivo che è quello di fare quello che sappiamo fare e quello che abbiamo dimostrato al primo tempo è chiaro manca qualcosa perché se non fai gol le partite è difficile che le vinci e non è la colpa degli attaccanti e non è colpa del difensore non è colpa del portiere che poi adesso non voglio sentire che è la colpa di Guido perché ha fatto E o degli attaccanti che non fanno gol si perde e si vince tutti insieme quindi ripeto il discorso delle chiacchiere perché è una settimana che si è parlato troppo dentro e fuori dal campo quindi cerchiamo di evitare di parlare tutti meno e di lavorare basta zitti, la testa bassa e lavorare si è chiusa con Carpi Pisa la settima giornata del campionato di Serie B partita terminata 1 a 1 3.306 è il numero degli abbonati del Trapani Calcio per questa stagione e record assoluto adesso invece passiamo al basket carichi grazie alla vittoria Casalinga contro Rieti la palla Canestro Trapani è tornata ad allenarsi una vittoria che nonostante sia arrivata soltanto involata è servita dal punto di vista morale queste le parole di coach Ducarello Rieti è una buonissima squadra ci ha messo in grande difficoltà siamo stati attenti a riempire l'aria meno attenti soprattutto nel perimetro dove loro hanno dei giocatori che hanno preso fin dall'inizio fiducia e mi riferisco soprattutto a Casini che ci ha messo immediatamente in difficoltà e quando dai la possibilità a una squadra di prendere subito fiducia e mi riferisco soprattutto ai tiratori di striscia è chiaro che dopo diventa molto più difficile noi siamo stati troppo elementari dal punto di vista offensivo concedendo a loro la possibilità è di correre in contropiede e di dare anche tiri troppo aperti dove nella nostra transizione difensiva non avevamo la possibilità di accoppiamento ringrazio la squadra perché questa è la vittoria della squadra e lo sottolineo perché non ha mai alzato bandiera bianca ci ha sempre provato ha sempre lottato è giusto sottolineare che abbiamo avuto grande fortuna perché Rieti è un'eccellente squadra e Rieti metterà in grande difficoltà tutte le altre squadre queste invece le parole del coach di Rieti Luciano Nunzi per essere una partita d'esordio credo che sia stata una partita avvincente, bella non capita tante volte di avere punteggi così alti nella prima giornata di campionato sicuramente abbiamo un po' di amaro in bocca perché forse dopo aver condotto per 39 minuti e qualcosa ci si aspettava un epilogo diverso però dobbiamo anche essere bravi a riconoscere i meriti di Trapani che nei momenti importanti non ha più sbagliato e dobbiamo fare mia colpa sul primo tempo dove potevamo chiudere con un vantaggio molto più alto e invece abbiamo subito Canessi soprattutto nel primo quarto un po' troppo facili da concedere e poi ho negli occhi ancora quell'ultimo tiro allo scadere da tre punti che chiaramente è stato concesso con superficialità che però poi nell'arco della partita ha chiaramente pesato tifosi ed appassionati della palacanestro Trapani recandosi in segreteria possono ancora sottoscrivere l'abbonamento stagionale fino a domenica 16 ottobre nel prossimo servizio invece andiamo a vedere com'è andata l'ultima giornata delle squadre trapanesi di eccellenza di promozione di prima categoria nella quarta giornata del campionato di eccellenza il Mazzara Calcio è perso in casa contro l'Alba Alcamo per 3 a 0 e rimane al decimo posto in classifica con 4 punti invece l'Alba Alcamo con questa vittoria sale al quinto posto con 8 punti il Dattilo continua a vincere lo fa in casa della Profavara per 2 a 0 la squadra del mister Formisano sale a 7 punti in classifica a pari punti con Licata e Mussumeli invece la Profavara rimane penultima in classifica con un punto vittoria a sorpresa per il paceco di mister Chianetta che ha vinto contro la quotata Riviera Marmi per 2 a 0 e sale al terzo posto con 8 punti in classifica invece la squadra di mister Melillo scende al secondo posto in classifica con 9 punti il Marsala ha perso 2 a 1 contro la Folgore la squadra Lili Betana rimane in zona play out con 3 punti in classifica invece la Folgore sale in testa al campionato con 10 punti scendiamo in promozione dove continua il periodo nero del 5 Torri che ha perso per 1 a 0 contro il Campobello e rimane penultimo in classifica con un punto invece la squadra mazzarese sale al sesto posto con 7 punti nella seconda giornata di prima categoria va Libertas Marsala Marsala ha perso per 2 a 0 contro la Capolista Empedoclina e rimane ultima con 0 punti vediamo adesso nello specifico i risultati e la classifica partiamo dall'eccellenza dove si è giocata la quarta giornata vi leggo le trapanesi Mazzara Alcamo 0 a 3 Paceco Riviera Marmi 2 a 0 Profavara Dattilo 0 a 2 Marsala Folgore 1 a 2 in classifica in testa c'è la Folgore a 10 punti Riviera Marmi 9 Paceco Parmon Valle Alcamo 8 Dattilo Licate Mussomeli 7 Nissa 5 Mazzara 4 Troina Marsala Castelbuono 3 Campofranco 2 Profavara 1 chiude Gela 0 punti andiamo a vedere anche in promozione dove si è giocata la quarta giornata sempre le trapanesi Campobello 5 Torri 1 a 0 Ribera Salemi 1 a 0 Castellammare Partinica Audace 0 a 1 Libertas 2010 Gattopardo 4 a 1 in classifica in testa troviamo il Ribera 12 punti Libertas 2010 Canicattia 10 Menfi 9 Raffadali Campobello Nuova Sancis 7 Castellammare 6 Partinica Audace Serra di Falco Ravanusa 4 Camarat 3 Casteltermini 2 Salemi 5 Torri 1 chiude Gattopardo 0 punti in prima categoria si è giocata la seconda giornata questi i risultati delle trapanesi Giuliana Fulgatore 2 a 4 Libertas Marsala Empedoclina 0 a 2 Real Unione Strasatti 3 a 1 in classifica Empedoclina Fulgatore Real Unione a 4 Strasatti Schiac Don Bosco a 3 Balestrate e Carini a 1 Ribera Marsala e Giuliana chiudono a 0 punti adesso invece chiudiamo noi con gli appuntamenti su Tele Sud rimaniamo però in ambito sportivo perché questa sera alle 20.30 e a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket e pallacanestro Trapani Rieti incontro valevole per la prima giornata del campionato di A2 Ovest e adesso una breve pausa pubblicitaria ma torniamo qui sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG a Grazie a tutti. Grazie a tutti.